Mi hai scordato un po', bimbi, ma di mattinata, una settimana, che ve le posso fare a quest'ora? You hear my voice, I gotta tell you I'm not at home. My name is Johnny Cash, if you want Johnny first Cash, and then don't forget he's a murderer. Strannamente è tutto nato a Roma perché il mio amico produttore Filippo Gatti ci trovava a un barretto dove andava anche quella sera, insomma, incontrò Paolo Guilzi, gli parlò di me dicendogli che ero tornato in forma, che avevo materiale, praticamente da questo incontro casuale. Poi Paolo Ganna Livorno, io volevo fare un documentario su questo lavoro che faccio con ragazzi disabili, no? Che si chiama You Clowned and Down, invece poi il lavoro, diciamo, è stato girato su quello che ha fatto Paolo, un po' me, un po' la città, un po'. Non pensavo che lui potesse trovare materiale per parlare di me, insomma. Non ho proprio voce per cantare, potrei fare, so, a quest'ora viene bene, non so per cazzo, la promotorizzando, poi scappellamento a destra. Questo viene bene, no? Non so, perché io. Oggi si può anche tentare di sopravvivere in città, di provincia, come Ligorno. Alla fine poi, sai, quello che io poi ho sempre cercato non è poi così la gloria, ma ripeto, insomma, se io con quello che faccio, tra quel modo arriva al fine mese, sono una persona, diciamo, felice. Felice è un parolone, però mi può andare bene, sai dire. Sì, sai, riusci anche comunque tra una canzone e l'altra, intrattenere, dire qualcosa. Per me è necessario perché chi si trova davanti a me non conosce la canzone. Con un'introduzione, diciamo, mi aiuta poi a farla arrivare meglio perché il pubblico spesso viene a vederti perché conosce tre o quattro band che passano in radio, non vuol sentire più che altro, quindi io invece sono sempre stato costretto a dover presentare la canzone un po', alle volte com'è nata, alle volte, sa, vuol dire, per una necessità di arrivare più facilmente, comunque se sei di sopra e se no che ci stai a fare, devi tenere l'attenzione. Sotto il sole, viva il mare, tra le onde, faccio il bagno in paradiso con una ventenne, le mie rughe sulla faccia, i miei peli mezzi bianchi, la sua pelle di una ventenne. Successo è diffondere bene, amici, libera la mente col suo sguardo fresco e assente. Trovarti davanti al pubblico che ti è già amico, che ti conosce, che ci puoi parlare, che non sono i tuoi fans, che non hanno un'idea amicomane di te. Potrebbe essere tua figlia, e lo so, ma un'idea amico, certo a livello economico prende un po' meno, però è un gran successo a livello, trovi un senso per poter continuare a raccontare quello che provi te ed altri, a essere il tramite. Grazie. 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 Grazie.